Revisioni per oggi. Al mattino, in pianura, banchi di nebbia in parziale sollevamento. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, in pianura, nubi basse e nebbie in sollevamento, con qualche schiarita. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Revisioni per domani. Al mattino, in pianura, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con nevicate a tratti forti. Nel pomeriggio, in pianura, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli.